Ormai? È un po' invecchiato, ma non vecchio. Siamo sui 43. Ma è molto che loro mancano la Mosca. Da 11 anni. Io ho conosciuto la loro mamma. Una santa del paradiso. Riposa a Mosca la mamma, a Novo Dievice. Pensate, comincio già a dimenticarmi come era fatta. Così succederà di noi, ci dimenticheranno. Esatto, esatto, ci dimenticheranno. Questo è il destino degli uomini. Eh sì, è inutile. Cose che a noi sembrano sublimi, importanti, serie, e domani non le ricorderà più nessuno. Sembreranno ridicole. È bello che se noi ci domandiamo quello che sarà importante domani, serio, sublime, oppure quello che potrebbe essere meschino, non lo sappiamo, non lo sappiamo. La scoperta di Copernico, per esempio, oppure quella di Colombo, non parvero ai loro tempi fisime o chiacchiere, mentre invece, non so, le invenzioni di qualche bello spirito non passarono per delle verità di Vangelo. E la nostra vita d'oggi a noi sembra normale, ma ai nostri posteri non sembrerà meschina, strana, balorda, disonesta, immorale. Eh sì, immorale persino. Ma chi lo sa? Chissà. E non potrebbe invece sembrare nobile, alta, e godere il rispetto dei posteri. La tortura, la pena di morte, le invasioni, sono cose passate, vero? Ma quante sofferenze oggi in cambio? Pio, 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 pio. Il barone non vuole la colazione, vuole la filosofia di Platone. Vassili, Vassilovic, la prego, mi lasci stare. È fastidioso alla fine. Pio, 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 pio. Le sofferenze a cui oggi assistiamo, e sono infinite, stanno in fondo a dimostrare che un passo avanti si è fatto, che l'umanità sia in un certo qual modo nobilitata, riscattata. Ja, è vero, sì, sì, è possibile, è possibile, certo, certo. Il barone dice che la vita è nobile e alta. Ja. Come mai la gente è così nobile e bassa? Io, per esempio, non sono basso, ma per consolarmi dico che la mia vita è nobile e chiara. Andriei, suona, nostro fratello. È intelligentissimo, avrà certamente la cattedra all'università. E papà ha scelto la guerra, è lui la scienza. Per desiderio di suo padre, stavattina l'abbiamo presa in giro. È innamorato, mi pare, di una ragazza dell'uomo. Dovrebbe essere già qui. Oh, mio Dio, come si veste quella ragazza. Non solo male, fuori moda, dai, non ridire. Certe sottane gialle, con frange da poltrona e camicette rosse. E il viso poi rubiconda. No, innamorato Andriei. No, non ci credo. Io credo che scherzi, lo fa così per farci dispetto. Lei sposa quel frotto poppo. Sì, me l'hanno detto ieri sera. Il presidente del consorzio di qui. Andriei, ecco, quello ci vuole per lei. Andriei, vieni caro, un minuto solo. Vengo. Il mio fratello Andrei Sergei. Io ci rinco. Rosorov, lei è il nostro nuovo comandante? Indovina, il signor colonnello è di Mosca. Sì? Ah, condoglianze, le mie sorelle non le daranno più tregua. Finora, finora veramente le ho tormentate io. Ma guardi, guardi che bella cornice mi ha regalato Andriei oggi. È opera sua. Ah, sì, è una, è una bella. E anche, anche questa qui sul piano l'ha fatta lui. Sì, è un pozzo di scienza. Suona il violino, intaglia il legno. Insomma, è un ingegno polietrico. Ma, no. No, no, come se ne va così? Vediamo se ti muovi. Ma, lasciatemi stare, che non è buono. Come, brutto, ridicolo. Il signor colonnello una volta lo chiamavano il maggiore innamorato. Eppure non si offendeva. Ah, per carità, per carità. E io ti voglio chiamare il violinista innamorato. No, o il professore innamorato. No, Andriei c'è innamorato. E che bravo, c'è innamorato. E che questa notte poi non ho neanche dormito, sono con la testa tra le nuvole. E allora pensiero e poi l'altro. Ho letto fino alle quattro, poi ho spento ma non ho chiuso occhio. Poi adesso il sole rompe nella stanza presto. Il giorno sale prima. Quest'estate finché sto qui voglio tradurre qualche libro dall'inglese. Ah, perché lei conosce l'inglese, vero? Ma nostro padre ci ha schiacciati sotto una montagna a derudizione faccia all'anima sua. Sì, ecco, per dirgliene una. Sembrerà sciocco, ridicolo, ma è proprio così. Da quando è morto io ho cominciato ad ingrassare. Sì, in un anno eccomi qui. Come se il mio corpo si fosse liberato da un peso. Grazie a nostro padre noi sappiamo il francese, il tedesco e l'inglese. E Irina anche l'italiano. E ma sudori e latino. Oh, sapere tre lingue in questa città è un lusso, uno spreco. Neanche è come avere tre gambe o sei dita alle mani. Un appendice superfluo. Sappiamo tante cose inutili. Lei sa molte cose inutili. Beata lei. Beata lei. Secondo me, guardi, non esiste per definizione una città così retrograda e così incivile per cui un abitante, una persona istruita e intelligente sia inutile. Eh già. Mettiamo per esempio che questa città, gli abitanti di questa città, siano i più zotici e i più incivili del mondo. Beh, naturalmente che soltanto tre di quei suoi diciamo centomila abitanti siano come lei. Ora, a lungo andare, lei capisce che questi signori diventeranno da tre a dodici e finiranno per progredire. Finiranno naturalmente per diventare come lei. Questo è importante. Fra due o trecento anni la vita su questa terra sarà magnifica, sarà sorprendente. Eh sì, bisogna aspettarla e già si sente naturalmente. Naturalmente bisogna aspettarla, bisogna anticiparla, bisogna sognarla, bisogna avvicinare i tempi. Ecco, questo è. Resto a colazione. Ma com'è vero. Bisognerebbe scriversele queste cose. Fra un certo numero di anni, lei dice, la vita sulla terra sarà meravigliosa, fantastica. D'accordo, ma per partecipare fin d'ora a questa vita di là da venire, bisogna prepararsi, bisogna lavorare. Ah già, certo, certo, si capisce. Ah, ma com'è bello qui, com'è bello, tutti questi fiori, questi fiori, e che magnifica abitazione, che magnifico appartamento. Ma pensare che io ho vissuto sempre in certi buchi, con due sedie, una poltrona e una stufa regolarmente fumosa, proprio questo è mancato alla mia vita. Ah, questi, questi fiori, eh no, pazienza. Lei dirà, ecco il solito tedesco che fa il sentimentale, mentre io invece non sono tedesco, glielo giuro, non so neanche una parola di tedesco. Mio padre era ortodosso. Qualche volta io mi domando, se uno potesse ricominciare da capo, ma con tutto quello che sa, naturalmente, odio, voglio dire, se la mia vita, se la vita che io ho vissuto, non so, fosse come una brutta copia e la bella dovesse ancora venire, eh, naturalmente, nessuno ricomincierebbe, senza dubbio. Ognuno cercherebbe di trovare una strada nuova, un ambiente nuovo, cercherebbe di avere perlomeno, non so, un'abitazione, un appartamento come questo. Ecco, questo dico io. Ma, io, io sono sposato, ho due figlie, una moglie, e mia moglie non gode di una buona salute. Beh, insomma, tra una cosa e l'altra, se rivivo un'altra volta, non mi sposo più. No, 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 non mi sposo più. Caro sorella, lascia che in questo tuo giorno nomastico io mi compiaccia con te e ti presenti dal più profondo del cuore i miei sinceri auguri di bene, di felicità e di quanto altro una giovinetta della tua età possa desiderare. E accetta in dono questo volumetto. La storia del nostro ginnasio negli ultimi cinquant'anni, modesta fatica del sottoscritto, operetta senza pretese, scritta per svago, ma che tu farei bene a leggere. Buongiorno, signori. Consigliere onorario Pulighin, professore di ginnasio. Troverà in codesto volumetto l'elenco di tutti gli alunni che hanno conseguito la licenza ginnasiale negli ultimi cinquant'anni. Feci pot potu, faciant meliora potentes. Scusa, ma me l'hai regalato a Pasqua. No, non è possibile. Beh, in questo caso ridammelo. Anzi no, perché non ne fai un omaggio al signor Colonnello? Permette, signor Colonnello, non si sa mai, in un giorno di noia. Grazie, grazie, è molto gentile, molto gentile e lietissimo di avere fatto la sua conoscenza. Lei se ne va? No, no. Ma no, lei resta a colazione con noi per piacere. Il giorno non mastico io non ho fatto nemmeno gli auguri, ma c'è la ricogna. Io non lo sapevo, veramente lo sapevo. Domenica, oggi, signore e signori, giorno del riposo. E noi osserveremo il riposo e lo festeggeremo secondo la nostra età e condizione. I tappeti bisognerebbe toglierli durante l'estate e riporli fino all'inverno spargendoli di pepe e di naftalina. E i romani sapevano vivere, sapevano lavorare e sapevano riposare. Men sana incorpore sano. La loro vita era regolata da leggi inderogabili. Ogni vita ha le sue leggi, dice il nostro preside, e tutto ciò che non segue la propria legge firma la propria condanna. È così. Anche nella nostra modesta vita quotidiana è così. Mascia e mia moglie. Mia moglie mi vuol bene. Anche le tendine e delle finestre, bisognerebbe riporle insieme ai tappeti. Oggi mi sento allegro e crescente. Ah, Mascia, oggi alle quattro ci aspetta il preside. Si sta combinando una passeggiata tutti insieme, professori e famiglie. Io non vengo. Perché, Mascia mia? Dopo le parliamo. Va bene, verrò. Adesso lasciami stare, per favore. Anche questa sera andremo dal preside. Con tutti i malanni che ha, quell'uomo è sempre in prima linea. E come ci tiene, che tempra, che carattere. È un uomo di primordine. Ieri dopo il consiglio mi fa, sono sfinito, Fiodo Rilic. Sfinito. Va sette minuti avanti la vostra pericola. Sfinito mi fa. A tavola, signori. A tavola il pasticcio. Cara, cara, cara la mia Olga. Ieri sera ero stanchissimo. Oggi invece mi sento felice. Cara la mia Olga. Non è benone. Un pasticcio buono. Sì, ma attento a non bere troppo, eh. Poi si sente male. Ormai sono due anni che non prendo una sbornia. E poi, senti, fammi un po' il piacere tuo, eh. Guai, a lei se la vedo bere una boccia, capito? Guai. Accidenti. Un'altra volta a sbadigliare tutta la sera dal preside. Non ci va, è tanto semplice. Ecco, fai così, non c'è andare. Sì, non c'è andare. Accidenti a questa vita di inferno. Vassili, Vassilic, basta. La smetta. E Mascia è buona. Ha un cuore grande così. Alla loro salute. Grazie. Mascia oggi è depressa. Ha sposato il marito a 18 anni quando lo credeva un genio. Adesso ha cambiato idea. E' un angelo, ma non è un genio. Andrei, ti decidi? Subito, subito. Ma che pensa? Niente. Ha quel suo soglione. Non mi piace, mi fa paura. Dice solo sciocchezza. Sì, è uno strano tipo. A me fa un po' pena e un po' rabbia. Più pera, però. Sì, secondo me è un timido. Ma tu per tu è fine, intelligente. In società diventa litigioso, volgare. No, non vada ancora. Aspetti che si siano seduti. Lasci che stia vicino ancora un momento. Ma che pensa? Lei ha vent'anni, io non ho ancora trenta. Quanti anni abbiamo davanti? Che fila lunga lunga di giorni pieni del mio amore per lei. No. Nicolai Giovici, non mi parli d'amore. Ho una sete enorme di lottare, di vivere, di costruire. E questa sete si fonde con l'amore che io sento per lei, Grigna. Lei è bella. E anche la vita mi sembra così bella. A che pensa? La vita è bella, lei dice. Sì, ma forse è solo un'apparenza. La vita per noi tre sorelle non è stata bella. Ci ha soffocate come un'erba maligna. Oh, ecco, piango. Ma perché? Basta, basta con le lacrime. Bisogna lavorare. Perché non siamo allegri? Perché prendiamo la vita sempre sul tragico? Perché non conosciamo il lavoro? Veniamo da gente che disprezzava il lavoro. Il rispetto dei posteri. La tortura, la pena di morte, le invasioni, sono cose passate, vero? Ma quante sofferenze oggi in cambio. Pio, 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 pio. Il barone non vuole la colazione. Vuole la filosofia di Platone. Ma sì, Vassilievich, la prego, mi lasci stare. La visione di qualche bello spirito non passarono per delle verità di Vangelo? E la nostra vita ad oggi a noi sembra normale, ma ai nostri posteri non sembrerà meschina, strana, balorda, disonesta, immorale. Eh sì, immorale persino. Ma chi lo sa? Chissà. E non potrebbe invece sembrare nobile, alta e godere... Ormai? È un po' invecchiato, ma non vecchio. Siamo, siamo sui 43. Ma è molto che loro mancano la Mosca. Oh, da 11 anni. Io ho conosciuto la loro mamma. Una santa del paradiso. Riposa a Mosca la mamma, a Novo Dievici. Pensate, comincio già a dimenticarmi come era fatta. Così succederà di noi. Ci dimenticheranno. Esatto, esatto, ci dimenticheranno. Questo è il destino degli uomini. Eh sì, è inutile. Cose che a noi sembrano sublimi, importanti, serie, e domani non le ricorderà più nessuno. Sembreranno ridicole. È bello che se noi ci domandiamo quello che sarà importante domani, serio, sublime, oppure quello che potrebbe essere meschino. Non lo sappiamo, no? Non lo sappiamo. La scoperta di Copernico, per esempio, oppure quella di Colombo, non parvero ai loro tempi fisime o chiacchiere, eh? Mentre invece, non so, le inventazioni... La scoperta di Copernico, la scoperta di Copernico,